Buongiorno, ma che emozione, tu sei Mauro? Sì, ciao, sono io, come posso aiutarti? È che io sono una tua grande fan, ci possiamo fare una foto? Ma certo, senza problemi, ieri facciamoci una foto con la ragazza No, no, sono con Mauro Anzi, non è inutile, falla Ecco qua, l'ha fatta la foto, ti puoi staccare Ti saluto allora, grazie mille, mi devi dare il numero di Mauro Scusa, ma che ti do il numero di Mauro? Ma mica te lo posso dare, gli devi o te Allora io ne metto a orare Allora io ne metto a orare Allora io ne metto a orare Allora io ne metto a orare